tre cose da eliminare subito se vuoi migliorare la tua vita oggi voglio fare questa riflessione con voi riflettere è molto importante è necessario se vogliamo definire i nostri obiettivi di crescita personale e capire come centrarli per diventare persone migliori il problema è che la società di oggi è troppo frenetica piena di distrazioni e di stimoli poco sani è vietato rimanere soli con i propri pensieri è vietato annoiarsi ma è proprio dalla noia che escono fuori le belle pensate e allora io che cosa faccio? metto il telefono in modalità aereo e me ne vengo nel bosco perché qui trovo la giusta combinazione di solitudine e silenzio che mi permette di vagare un po' con la mente condivido con voi un po' del mio vagabondaggio mentale in questa rubrica che si chiama riflessioni dal bosco e spero proprio che non ci sia già un'altra rubrica chiamata così qui su youtube perché non mi va di pensare ad un altro nome prima di cominciare ragazzi vi ricordo che se i miei contenuti vi piacciono e apprezzate il mio impegno nel realizzarli esiste un modo semplicissimo per sostenermi utilizzare per i vostri acquisti su amazon i link che vi lascio sempre nella descrizione di ogni video si tratta di link affiliati questo significa che percepirò delle piccole commissioni sui vostri acquisti senza alcun costo aggiuntivo per voi come primo link in descrizione trovate la dicitura mio link amazon utilizzate quello per entrare sulla piattaforma poi potete acquistare quello che volete altrimenti un pochettino più in basso nella descrizione c'è scritto equipaggiamento consigliato su amazon li trovate una selezione di prodotti discreti con buone recensioni mi raccomando ragazzi prendete solo quello che vi serve niente shopping compulsivo e grazie per il vostro sostegno per migliorare la propria vita ci vuole tempo e lavoro non è un qualcosa che avviene dall'oggi al domani da dove cominciare quindi? ecco io comincerei con il togliere non abbiamo familiarità col concetto del togliere del lasciare andare la privazione, l'eliminazione ci mettono a disagio perché la società spinge esattamente nel verso opposto devi avere più oggetti, devi avere più amici, devi fare mille cose altrimenti rimani indietro anche io per qualche tempo sono rimasto vittima di questa tendenza fin quando non mi sono accorto che molto spesso togliere è molto meglio che aggiungere e a quel punto ho iniziato a sentirmi più sereno uso una metafora abbastanza scontata ma che penso risulterà familiare a molti di voi immaginate che i vostri obiettivi nella vita siano la vetta di una montagna o quando dico obiettivi non pensate a chissà che l'obiettivo potrebbe anche essere semplicemente quello di campare sereni immaginate di percorrere il sentiero che conduce alla vetta portando sulle spalle uno zaino pesantissimo pieno di roba inutile chi si è trovato in una situazione del genere alzi la mano immaginate di togliere da quello zaino diciamo una buona metà degli oggetti poi di rimetterlo sulle spalle e di ricominciare a camminare se fate trekking sapete di cosa sto parlando voglio che immaginate la sensazione quanto vi sentirete più leggeri? quanto viaggerete più spediti verso la vetta? ecco se la vetta rappresenta i vostri obiettivi nella vita che cos'è che dovete togliere dal vostro zaino per arrivarci il prima possibile e senza fare troppa fatica? tutto, tutto ciò che vi rallenta potete togliere oggetti potete togliere abitudini potete togliere persone prima cosa da eliminare affinché la vostra vita migliori sono le dipendenze il discorso sulle dipendenze è lungo e complesso io me le sto studiando da semplice appassionato non sono un professionista della salute mentale quindi tratterò l'argomento in maniera molto essenziale una dipendenza è un qualcosa che prosciuga le vostre finanze e in cambio vi rovina la salute sia quella fisica che quella mentale spendete un sacco di soldi senza avere nessun vantaggio che non sia una gratificazione istantanea che dura pochissimo e che quindi non serve a niente considerate che dietro ogni dipendenza c'è qualcuno che fa un mucchio di soldi sfruttando l'infelicità delle persone criminalità organizzata oppure aziende e sì perché esistono tanti tipi di dipendenze alcune condannate dalla società altre tranquillamente accettate tre esempi riguardanti l'alimentazione alcol, caffè e cibo spazzatura alcol ovviamente inteso non come alcolismo ma come il bicchiere di vino al giorno che c'è ancora qualcuno che pensa che faccia bene alla salute il litrozzo di birra tutti i fine settimana con gli amici perché altrimenti non ci si diverte raga l'alcol fa male la letteratura scientifica è ormai molto chiara in tal senso quindi io non lo bevo, non ci spendo soldi e sto bene così anche perché non mi è mai piaciuto il caffè, altra cosa che non serve a niente che a botte di un euro o 50 centesimi adesso non so quanto costa il caffè dalle vostre parti vi porta via un mucchio di soldi quando ero all'università lo prendevo tutti i giorni poi dopo mi sono accorto che faceva più male che bene perché mi faceva male allo stomaco pregiudicava la qualità del mio sonno quindi ho smesso di berlo nel quotidiano lo prendo solo ogni tanto se la mattina fate fatica ad alzarvi è o perché dormite poco per tutta una serie di motivi oppure perché quello che andrete a fare durante la giornata non vi piace quindi il cervello si rifiuta di attivarsi e qui purtroppo vi parlo per esperienza diretta piuttosto che andare avanti per inerzia consumando litri di caffè conviene lavorare per migliorare la propria condizione ci si guadagna sia in termini di salute che in termini finanziari cibo spazzatura stessa cosa patatine, dolciumi bevande zuccherate gasate cibi ultraprocessati costano un sacco di soldi e nutrizionalmente non vi danno nulla anzi vi fanno male ci sono interi team di esperti che studiano in continuazione il giusto mix di sostanze da inserire all'interno di questi alimenti affinché creino dipendenza e sono tutte sostanze che vi assicuro fanno male il cibo spazzatura in casa mia non entra non ci spendo soldi salvo rare occasioni mi capita di consumare qualcosa quando sono fuori ma capita di rado eh ma che vita triste senza la birretta perché devo rinunciare ai piaceri della vita raga ma voi pensate veramente che la felicità consista nel bere alcol e nel mangiare schifezze nel mettersi seduti tutti fine settimana allo stesso tavolo dello stesso bar per fare l'aperitivo se pensate questo significa che non avete mai provato una felicità autentica vi svelo un segreto tutto ciò che di più bello c'è nella vita i veri piaceri della vita sono gratis e non fanno male alla salute torno serio ricordate che le dipendenze si inseriscono laddove c'è un vuoto emotivo e che è molto meglio anche se lo ammetto più difficile cercare di colmare quel vuoto piuttosto che ricorrere ad un set di gratificazioni che durano pochi minuti e che oltretutto vi fanno male alla salute seconda cosa da eliminare subito affinché la vostra vita migliori le persone moleste molesto che significa? che crea disagio che peggiora la qualità della vostra vita se gli state vicino esistono tantissime tipologie di persone moleste nella mia vita ne ho incontrate diverse e se mi mettessi a fare un elenco staremmo qua fino a domani mi limito a citare la categoria che per me è tra le più moleste ossia quelli che polemizzano per ogni cosa e che si lamentano in continuazione nessuno di noi ha una vita perfetta tutti abbiamo i nostri problemi e per come la vedo io nessuno ha il diritto di dire i miei problemi sono più importanti dei tuoi nessuno ha il diritto di usare ciò che va storto nella sua vita come scusa e come giustificazione per comportarsi male o per introdurre negatività nella vita delle persone che lo circondano posto che tutti abbiamo qualche cosa che non va nelle nostre vite ci sono persone che si adoperano per capire esattamente che cosa c'è che non va e per migliorare la propria condizione ci sono altre persone che invece di agire preferiscono lamentarsi e buttare la colpa su qualcun altro una testimonianza che posso darvi io in questo senso come creator è quella relativa al mondo dei social frequentando i social per anni mi sono reso conto di come per tanti soggetti accanirsi contro i creator inventando polemiche assurde rappresenti una vera e propria valvola di sfogo penso che rimarrà negli annali di questo canale il botte in risposta col tizio che qualche tempo fa arrivò ad accusarmi di essere foraggiato dall'oscura lobby degli insetti solo per aver provato per curiosità uno snack alla farina di grilli che avevo acquistato di tasca mia in un negozio se ritrovo gli screenshot ve li metto ora io la butto sullo scherzo ma c'è poco da ridere questa è gente profondamente infelice bisogna rendersi conto che la lamentela non solo è inutile ma è anche dannosa è inutile perché non migliora la condizione del soggetto che si lamenta porta solo una sensazione di benessere che però è momentanea è come fare shopping compulsivo acquistando oggetti che non servono ci si gioca per un fine settimana poi finiscono in un cassetto e siamo punti a capo lamentarsi è anche dannoso su due fronti sia perché sottrae tempo prezioso tempo che questo individuo potrebbe utilizzare per risolvere i suoi problemi sia perché introduce negatività nella vita delle persone che sono a lui o a lei vicine che si ritrovano vittima delle lamentele delle polemiche dei discorsi pessimistici complottistici e divisivi se vi imbattete in una persona molesta raga del tipo che vi ho descritto o di qualunque altro tipo fuggite immediatamente perché vi trascirano a fondo mi rendo conto che non è sempre facile perché a volte ad essere molesto è un partner è un amico di vecchia data è un membro della famiglia in questi casi bisogna armarsi di tanto coraggio far prevalere l'istinto di sopravvivenza ed estromettere queste persone dalla propria vita possibilmente prima di diventare come loro terza ed ultima cosa da eliminare se vuoi migliorare la tua vita il confronto con gli altri il meccanismo del paragone è un qualcosa di perfettamente normale perché essendo l'uomo un animale sociale essendo noi degli individui che vivono la propria esistenza all'interno di una società utilizziamo le vite degli altri come metro di paragone per capire come stiamo messi più o meno se stiamo facendo bene o male il confronto può essere positivo se genera in noi la voglia di migliorarci può essere negativo se genera sentimenti come l'invidia con la diffusione dei social network purtroppo il confronto con gli altri non solo si è ampliato a dismisura ma è diventato un qualcosa di continuo se una volta potevamo confrontarci solo con amici e parenti oggi tramite lo smartphone possiamo vedere cosa combina il mondo intero sempre H24 dal momento in cui apriamo gli occhi la mattina a quello in cui ci addormentiamo la sera dobbiamo assistere ai successi degli altri alle loro vite apparentemente perfette ripeto da una parte possiamo trarre ispirazione per migliorarci dall'altra è molto facile cadere preda dell'invidia dell'ansia della paura di rimanere indietro di essere tagliati fuori come fare quindi ad eliminare questo perenne confronto con gli altri o ad eliminare i sentimenti negativi legati al confronto prima cosa ridurre drasticamente l'utilizzo dello smartphone evitare di vivere con questo coso sempre in mano controllandolo ogni 10 secondi darsi delle tempistiche ben precise da non superare per quanto riguarda l'utilizzo dei social che deve essere un utilizzo consapevole e non compulsivo consideriamo poi due cose importanti riguardo a ciò che vediamo sui social primo la gente mostra solo il meglio della propria vita quindi il divario che sembra esserci tra noi e gli altri è molto meno ampio di quanto immaginiamo secondo ci viene sempre presentato un risultato ma mai tutto il processo che c'è dietro a quel risultato risultati estremi fanno riferimento a situazioni estreme implicano sacrifici estremi fuori dell'ordinario per cui confrontare noi stessi con alcuni tipi di personaggi semplicemente non ha senso opposto che ognuno di noi è diverso abbiamo background diversi abilità diverse possibilità diverse l'importante nella vita è puntare sulle proprie qualità porsi degli obiettivi realistici e concentrarsi solo su quelli con entusiasmo con costanza tutti i giorni senza stare a pensare troppo a cosa combina il resto del mondo ragazzi spero che questa chiacchierata non vi abbia annoiato troppo ma che anzi vi abbia dato qualche utile spunto di riflessione fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate ditemi se questo format vi piace e perché no datemi qualche suggerimento sugli argomenti da trattare nelle prossime puntate grazie per la visione un abbraccio e ci vediamo presto grazie per la visione